Il grounding è una tecnica ideata da Alexander Lowen per essere più consapevoli e presenti. L'obiettivo è aiutare le persone a ritrovare il loro senso di connessione con la vita e con gli altri. Radicarsi è l'unico modo per farlo. Lo scopo principale consiste in radicare l'individuo nella realtà del suo corpo e della terra. Nella nostra cultura la gente ha un grande bisogno di lasciarsi andare. Non dovremmo per paura di arrenderci, tra virgolette, purché ci arrendiamo ai nostri corpi, alla terra, alla vita. Perché così ci abbandoniamo alla sola forza che in ultima analisi può veramente sostenerci. Radicarsi ed essere connessi e presenti con il proprio corpo significa radicarsi ed essere connessi e presenti con la vita e quindi migliorare la qualità di vita. È una tecnica di autoconsapevolezza. Il suo presupposto è che per vivere in armonia e ben presenti è necessario avere un buon contatto con la terra. Bisogna essere radicati, bisogna essere in contatto con il proprio corpo rimanendo consapevoli della realtà che si vive in quello specifico momento. Questo esercizio è utile in delle situazioni quando si ha paura di non farci, non si teme di perdere il controllo, si fatica a lasciarsi andare, si è sempre in tensione. Un esempio pratico per applicare questa tecnica. Mettetemi in piedi in modo possibilmente rilassato, sciolto, le braccia oscillano da sé, le gambe leggermente divaricate. Portate la vostra attenzione alle vostre gambe e ai vostri piedi. Portate tutta la vostra attenzione al modo in cui la vostra pianta dei piedi aderisce perfettamente alla suola della scarpa e al terreno. Sentite il contatto della pianta del piede nella scarpa e sentite come tutto il peso del vostro corpo attraverso i piedi si scarica nella terra. Sentite il peso del vostro corpo che poggia su gambe e piedi e si scarica nella terra. Immaginate adesso di avere delle radici che partono dai vostri piedi e scendono in profondità nella terra. Sentite il modo in cui queste radici vi rendono più forti, solidamente ancorati al terreno. Respirate in modo armonico e profondo e connettetevi con le sensazioni di forza e di solidità che vivete. Perché la respirazione è fondamentale. Il respiro è il più importante degli strumenti per la consapevolezza e per la crescita personale e spirituale. Il respiro è lo strumento e sono... Consapevole di quanto possa essere quasi un'offesa chiamarlo strumento, tanto è la sua sacralità. Il respiro è quanto abbiamo di più vicino a Dio, più di ogni altra cosa. La manifestazione di Dio dentro di noi, dentro ogni essere umano. È sempre presente, senza respirare potremmo sopravvivere solo pochissimi minuti. Il respiro è alito divino, spirito santo, vento, soffio, con tutte le traduzioni di un'unica parola ebraica, Ruan. Quando ti accorgi del tuo respiro, ti accorgi del tuo spirito. Quando ti ricongiungi col tuo respiro, ti ricongiungi col tuo spirito, più siamo connessi al nostro respiro, più siamo connessi al nostro spirito. Quando siamo identificati col respiro, usciamo dalla mente, non siamo più identificati con i nostri pensieri, diventiamo spirito, anima che si manifesta. Un altro punto importante è la connessione che c'è tra il respiro, mente e corpo. Infatti ogni volta che rilassiamo il respiro, lo rendiamo più profondo, anche la mente rallenta e crea spazio tra un pensiero e l'altro. Inoltre ogni volta che ci focalizziamo sul respiro, regaliamo un massaggio al nostro corpo, ci sentiamo prendendo pure di lui e stiamo permettendo alla mente di rilassarsi e creare spazio. Il respiro è la porta di unione con la natura. Riconoscere e accoggersi del respiro significa riconoscere e accoggersi che un'intelligenza superiore è in azione e si prende cura di noi, anche quando noi ce ne dimentichiamo. Ma quando ce ne accorgiamo, ci connettiamo a quella intelligenza più grande che fa accadere le cose e che opera dentro di noi, la nostra spiritualità. E diventiamo consapevoli e possiamo scegliere di abbandonarci ad essa, possiamo renderci conto che quella intelligenza superiore potrà trovare la soluzione che stiamo cercando, tanto faticosamente attraverso la nostra limitata intelligenza razionale. Questa intelligenza superiore è animata da amore incondizionato e è amore incondizionato. Quando respiriamo insieme consapevolmente, allora anche le relazioni cambiano. Noi non è più la personalità, l'ego che si relaziona con l'ego dell'altra persona, ma è lo spirito ospitato nel corpo che si relaziona con lo spirito ospitato nell'altro corpo. Ecco perché molti terapeuti della coppia per risolvere i problemi dicono ai due partner e di respirare insieme in silenzio, mentre fanno un amore per esempio. Non sono più i corpi con l'interferenza della mente e unirsi, ma sono i corpi guidati dalla purezza delle anime. Si focalizzano sul respiro e diventano un unico respiro, diventano un unico spirito, un incontro con l'altro in quel campo dove l'ego non ha spazio, diventa uno lo stesso spazio, lo stesso respiro, per accogliersi dalla vita, lo spirito è uno solo, lo stesso spirito ospitato da entrambi i corpi, da tutti i corpi.